Carlo Butic, il primo gol lunedì scorso contro la Vispesero, gol da opportunista, però alla fine non è arrivato, sono reati tre punti, adesso tutta un'altra cosa, doppietta e soprattutto la prima vittoria che finalmente schioda lo zero. Partiamo dai due gol. Che dire, sono molto contento, è stata una partita fantastica per noi, i miei due gol adesso finalmente hanno aiutato la squadra a vincere, quindi sono veramente felice, quindi dobbiamo continuare così e niente, ci siamo rialzati dopo due sconfinte pesanti e adesso continuiamo così. Proviamo a raccontarli perché sul primo Borello quanto meno da ringraziare perché ti ha servito un pallone perfetto. Sì, stasera magari gli offro una pizza o qualcosa, è stata una bella azione, mi ha messo una veramente bella palla e lì sono stato bravo. E poi secondo gol è stata una mischia che l'ho presa, non lo so, anche io di ginocchio mi sembra, ma è importante che è entrata e che abbiamo vinto. Oltre al mio ingresso comunque diciamo che anche la squadra ha cambiato un po' il modo di giocare, siamo stati un po' più incisivi ed è andata bene così. Tu sei una partita a tre punti, visto che le prime due non eri di fatto presente. Al di là delle battute ti chiedo cosa significa una vittoria di questo tipo e soprattutto questo secondo tempo. Sì, una vittoria in questo campo sicuramente è difficile perché voglio vedere quando arriverà Natale e quante squadre hanno vinto in questo stadio.